Ciao, sono Sergio Mataresi, vengo da Liburno, ho 18 anni più 32, ma cosa avete capito? Sergio non è lui, ma sono io! Come avete capito faccio il parrucchiere, truccatore e turnista, mi occupo di immagine e di moda e vorrei entrare nella casa del grande fratello per far vedere quanto vado. E da questo momento è aperto il televoto, votatemi! Ciao da Sergio! E da questo momento è aperto il televoto, votatemi! Un saluto da Sergio! E da questo momento è aperto il televoto, votate, votate, votate! Ciao! No, votate, votate, votate e datemi una mano a realizzare questo grande sogno! Ti prendo tan mappo a te, Juan! E da questo momento è aperto il televoto! Livi Gruber, guarda! Vai, rifai! Tipo TGG! E datemi una mano per realizzare questo sogno! Ciao! Basta! Ancora! Vieni, vieni! No one's gonna stop me! No!